Ha perso circa un punto e tre in qualifica, ricordiamo che lui è vice campione olimpico agli anelli a Tokyo, bronzo a Rio de Janeiro con la squadra. Si vede anche dalla struttura, lui è leggerissimo fisicamente ma ha una condizione sulla parte alta del corpo di grande potenziamento e andiamo a vedere le sue posizioni. Si tira su per andare lentamente in croce in verticale, ancora una discesa, risale lentamente per andare in rondine, braccia ben divaricate, tiene due secondi la posizione, ancora una presa di slancio indietro e rondine, nulla da dire in questi tre elementi molto bene eseguiti, da un volta braccio capavolta in verticale, doppia rotazione indietro con il corpo disteso a Zadian, anche lui ha la presa però facilitata con la presa carpia, presa di slancio, Jonasson e poi ha una croce, leggermente alta la posizione di arrivo e poi è sceso in croce, qui si sbilancia sulla verticale, leggermente indietro si, nella verticale, Zucara avvitato, leggermente basso e un passo indietro. Non solo ma anche non proprio preciso, compiere 16 anni e va al comando nettamente Yow con 14,90. Adesso sarà la volta dell'altro cine...